Articolo 564, isolante termico, 100 kg. Articolo 565. Ah, forniture mediche, 10 kg e mezzo. Articolo 566, una scatola di sigari, chili 0,990. Non troveremo niente. Sta' zitto. Ehi ragazzi, guardate qua. Articolo 567, 12 film vietati ai minori di 18 anni, scommetto che sono i nuovi interattivi porno. La terra del desiderio, probabilmente sono sfuggiti alla censura. Siamo affortunati, vero? Già, abbiamo finito. Beh, quasi. Articolo 568. E qua? Una cassa di vino, 12 kg. Ah, ero scordato che c'è anche un altro passeggero. Cosa? Di chi parli? Vieni a vedere. 569 H. Redding, deceduto. Contenitore criogenico, 585 kg. Deve essere costato una fortuna alla famiglia del caro estinto, e sorgelarlo così, solo per il gusto di spedirlo su un altro pianeta. Sapete cosa vedo io? Un mucchio di merci o di un lusso sfrenato o di pura necessità. E niente di niente in mezzo. Nessuna pozione miracolosa che risolva la nostra situazione. Stiamo solo perdendo tempo. Hai forse un altro impegno più urgente. Va al diavolo, McNeil. Su, venite. Stiamo per raggiungerti anche noi, lo sai, amico. Alla tua salute, signor 569. Il nostro unico passeggero che non si lamenta. Non sai cosa ti perdi.